Buon pomeriggio ragazzi e bentornati sul canale. Oggi è una giornata veramente speciale. Si va a vedere Brescia-Milano. Let's go! Finalmente arrivati! Dopo i primi minuti di difficoltà, anche a causa dell'impenetrabile difesa milanese, la Leonessa si è sbloccata, chiudendo gli ultimi tre quarti sempre in leggero vantaggio. Una partita in crescendo, con un grande Messinburg che ha segnato 18 punti, un ottimo Christon, assistman della gara, e Mio Bilan, che ha realizzato una decisiva tripla verso la fine del quarto quarto. Tra i milanesi si è distinto Shabazz Napier, che ha dato del filo da torcere ai Bresciani. Ecco il risultato finale. È sempre uno spettacolo assistere a questa partita. Grazie a tutti voi per aver guardato il mio video fino alla fine. Alla fedocina.